Immortals primo trailer del film con Enrique Aville e Mickey Rourke Quello che vedete qui sotto a questo articolo di Cinema 10 è il primo full trailer di Immortals nuovo film diretto dal regista Tears Ham Sing la cui data d'uscita in 3D nei cinema italiani è fissata al prossimo 11 novembre 2011 e nel cast della pellicola vediamo Enrique Aville Mickey Rourke Freida Pinto Lucchi Evans Kellan Lutz e John Art per un film nel quale sono protagonisti gli idei dell'Olimpo Lucchi Evans e Zeus mentre John Art è la sua incarnazione terrena che farà da mentore al giovane guerriero Teseo il quale avrà il volto di Enrique Aville Kellan Lutz presterà le sue sembianze al dio dei mari Poseidone mentre Mickey Rourke interpreterà il titano cattivo Iperione infine Freida Pinto sarà Fedra. Lo stesso regista Tears Ham Sing ha definito Immortals 3D come la pellicola nella quale Caravaggio incontra Fight Club la trama ci racconta di un giovane alla ricerca di un re per lottare contro i demoni dell'antica Grecia scoprirà che proprio lui è il figlio del re che è destinato a diventare il più grande eroe del suo tempo dovrà condurre la guerra contro i titani ed evitare che utilizzino i demoni a proprio favore eccovi il full trailer di Immortals 3D nuovo film di Tears Ham Sing con Enrique Aville Jonart Mickey Rourke Freida Pinto Il nome Broplato